Lei si sente tranquillo, ammettendo che per la sua città siano transitati liberamente sospetti terroristi e acclamati terroristi che poi gli attentati sono anche riusciti a farli, non soltanto a progettarli. Si sente tranquillo? Io credo che la nostra comunità non può stare tranquilla. Dobbiamo tenere alta la guardia, dobbiamo tenere sotto controllo tutto. Mi sento tranquillo rispetto al fatto che ci sono forze dell'ordine e magistratura che tengono alta la guardia. Soprattutto in una città come Bari, che è una città di transito, dove di qui è passato per esempio il terrorista dell'attentato a Parigi, che non era un migrante che ha chiesto rifugio, asilo politico. Forse c'è qualche problema con il collegamento da Bari perché il sindaco non riesce a interagire. Allora un momento da Bari. Un amministratore pubblico che dice io non mi sento tranquillo, io non mi sento tranquillo per i bambini che vanno a scuola, per le persone, per i miei concittadini. Come fa a esprimere certe posizioni quando siamo di fronte alla realtà delle cose, alla realtà dei fatti? I terroristi sono passati da Bari, non da Timbuktu, non dall'Afghanistan, da Bari, dalle nostre città, probabilmente pure da Milano, dalla stazione centrale dove ne sono passati a decine di migliaia. A questo punto... Questo non dipende solo dal sindaco, è la posizione politica che è fuori da ogni logica, perché siamo di fronte alla palese realtà nella quale i terroristi sono in mezzo a noi. Allora o vogliamo intervenire oppure ci aspettiamo che ci sia James Bond tutte le volte che ci salva la vita.